ecco a voi la mia nuova creazione del nuovo impianto stereo con radio sveglia attaccata al giradischi poi giradischi attaccato al computer con la usb con il cavo jack che poi c'è l'uscita auxin e poi i cavetti a v che sono legati alla radio sveglia se volete vi faccio vedere come si sente allora innanzitutto attacchiamo l'impianto stereo la mia nuova creazione poi il computer poi e questo aspetta ci conviene prima di attaccare ecco accendiamo il computer accendiamo i giradischi e anche la radio sveglia e ora vi faccio sentire come si sente cioè vi faccio vedere come si sente ecco ho acceso il computer e adesso apriamo il windows media player a vi ricordo che questa questo impianto stereo c'è pure la radio fm l'audio l'audio esce se che da qui e se che da qui attraverso il computer però se abbassate l'audio da qua si sente solo qui però poi se abbassate da qui si abbassa pure qua il volume se abbassate da qui si abbassa pure qui per esempio mettiamo una canzone aspetta ecco vedete non si sente niente se abbassa da qui bene la dimostrazione è finita spero che vi sia piaciuto il video e commentate commentate il mio video qui sotto grazie a tutti